Il GAL non poteva mancare ovviamente da questa bella iniziativa dove si parla di cibo e di tradizioni. Il GAL si occupa appunto di questo e lo vuole fare attraverso tante forme, questa è una di quelle, per accendere i riflettori non solo su quello che è il cibo in sé come materiale di consumo ma sicuramente sotto tutt'altro aspetto. Quindi il GAL su questo ha le idee molto chiare e ne parlerà appunto questa sera in questa bella tavola rotonda. Grazie a tutti.